Il Piemonte introduce per le scuole l'obbligo di verificare la misurazione della temperatura agli studenti. In un'ordinanza firmata dal Presidente della Regione in vista della ripartenza ufficiale dell'anno scolastico il 14 settembre, si raccomanda a tutti gli istituti di misurare la temperatura agli alunni prima dell'ingresso a scuola. Se l'istituto non potesse farlo, dovrà prevedere un meccanismo di verifica quotidiana, attraverso un'autocertificazione, per controllare che la temperatura sia stata effettivamente misurata dalla famiglia. Nel caso in cui uno studente dovesse presentarsi senza il documento, la scuola avrà l'obbligo di misurare la febbre per consentirne l'ingresso in classe. Per sostenere le scuole nell'acquisto di termometri e termoscanner, la Regione ha stanziato nei giorni scorsi 500.000 euro. Inoltre, per ripartire in sicurezza, la Regione si è dotata di linee guida condivise con i medici, i pediatri e con il sistema sanitario territoriale, che dettano 5 regole per il rientro in sicurezza. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute, febbre, tosse e raffreddore, parlane subito con i genitori e non venire a scuola. Quando sei a scuola, indossa una mascherina per la protezione del naso e della bocca. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. Mantieni sempre la distanza di un metro, evita gli assembramenti, soprattutto in entrata e in uscita, e il contatto fisico con i compagni. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite, evita di toccarti il viso e la mascherina. Per consentire agli studenti che dovessero avere la febbre di effettuare nel giro di tre ore il tampone, che sarà esaminato in via preferenziale, ogni ASL verrà dotata di una corsia esclusiva.